Si avvicinano i giorni di Pasqua e Pasquetta, giorni che scandiscono il calendario religioso ma anche gli spostamenti dei cittadini che si concedono quantomeno un lungo weekend fuori porta, scegliendo mete dalle bellezze naturali o le città d'arte che rimangono sempre oggetto di vivace curiosità. Parlando di bellezze naturali per il territorio arreatino c'è il Terminillo che, con le ultime abbondanti nevicate, sembra poter accogliere anche per il fine settimana pasquale i turisti sugli sci. Inoltre, a conferma di ciò, è arrivata l'ordinanza di garantire gli impianti aperti. L'ordinanza prevede fino al 7 aprile compreso e fino alla permanenza dello stato di innevamento delle piste e l'apertura degli impianti sciistici che sarà ininterrotto dalle ore 9 alle ore 16.30. Ma il problema risiede nella poca affluenza di gente che potrebbe vivacizzare la montagna al centro abitato. Come dichiara un albergatore, rispetto anche a 3-4 anni fa la situazione sta peggiorando e le prenotazioni sono poche e le poche limitate massimo a tre giorni. E tutto questo malgrado ci siano offerte golose con pacchetti risparmio davvero convenienti. La situazione sembra non essere cambiata rispetto a Natale e il clima festivo non vede crescere il turismo. Rispetto a dicembre si è visto un febbraio e marzo è ripresa, ha dichiarato il titolare dei Salvatori Sport. Anche adesso c'è tanta neve ma le previsioni non sono state clementi e si preannuncia maltempo per il giorno di Pasqua. Secondo quanto dichiarato dal signor Salvatori, gli utenti presenti sono maggiormente di Roma, mentre Riti e provincia sembrano essere lontani anni luce da questa montagna che invece ha bisogno del sostegno di tutto il territorio. Ma ritornando ai viaggi alle strade non sembra calare l'affluenza di autovelicoli, tanto che si parla di bollino rosso. In tal senso l'ANAS ha predisposto un piano di interventi coordinati sulla rete stradale e autostradale. Per avere una consultazione rapida si può consultare il sito web www.stradeanas.it.